Da domani fino al 13 aprile Palazzo Pretorio apre una finestra sulla pittura del 600 napoletano mettendo in comunicazione la collezione del Museo Civico Pratese con quella della Fondazione De Vito. Ed è una parte della collezione che entra in dialogo con una fondazione, che è la Fondazione De Vito, che fa invece del 600 napoletano il cuore unico della sua attività di ricerca e di esposizione. Ci sono molte opere che non sono in mostra dagli anni Ottanta, che sono sconosciute sostanzialmente al grande pubblico dopo aver magari transitato per Spagna, Francia, grandi mostre su 600 fatte nel nostro paese ormai 40 anni fa. Abbiamo scoperto tanti rapporti, tanti legami, soprattutto ovviamente artistici, tra le opere della collezione De Vito e le nostre, ma abbiamo anche avuto la possibilità di ristudiare le opere del Pretorio, come quelle ovviamente della Fondazione. e le opere del Pretorio sono state ristudiate cercando anche di capire come queste opere fossero arrivate a Prato. Quindi questo tramite documenti d'archivio, tramite questa ricerca in archivio ci ha permesso appunto di scoprire quali sono state le famiglie che alla fine del 700, abbiamo scoperto, hanno portato a Prato dei dipinti veramente importanti. Il collezionista non amava moltissimo esibire la sua collezione a un pubblico, preferiva solo il pubblico degli studiosi. La Fondazione guarda diversamente al futuro, vuole offrire a tutti la possibilità di visionare assoluti capolavori del 600 napoletano.